Conto alla rovescia per ritorno sui banchi di scuola in Abruzzo. Nella nostra regione infatti il rientro in classe degli studenti è fissato dalla regione a mercoledì 13 settembre 2023, ma ogni istituto può autonomamente anticipare di uno o più giorni l'avvio del nuovo anno scolastico per esigenze interne o per godere di qualche ponte nel corso dell'anno. La fine dell'anno scolastico 2023-2024 è sabato 8 giugno, mentre le scuole dell'infanzia saluteranno i loro piccoli studenti sabato 29 giugno 2024. Dopo il rientro a scuola che in Abruzzo dovrà avvenire entro il 13 settembre, gli studenti dovranno attendere l'immacolata concezione per godere di alcuni giorni di riposo continuato dato che tale festività ricorrerà di venerdì e consentirà quindi di beneficiare del primo weekend lungo dell'anno scolastico da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre. La prima pausa consistente, come sempre, sarà quella offerta dalle vacanze natalizie che si svolgeranno da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024. Una novità importante riguarda invece le vacanze di carnevale. La giunta regionale d'Abruzzo ha infatti deliberato che nell'anno scolastico 2023-2024 spetterà ai presidi decidere se concedere o meno una piccola pausa in occasione del carnevale. Nel caso in cui le vacanze di carnevale saranno accordate occuperanno due giorni, lunedì 12 e martedì 13 febbraio. L'inizio della primavera sarà accompagnato dalle vacanze di Pasqua che si svolgeranno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024.